Sono Raffaele Sigon dell'azienda Arvatec di Rescaldina. Ci occupiamo di agricoltura di precisione, quindi dalle guide automatiche fino alla gestione Isobus, prodotti liquidi, seminatrici. In particolare per questa fiera siamo stati premiati per la novità iScan, tutti i prodotti Veris Technologies che sono prodotti per la mappatura delle caratteristiche del terreno. I-Scan è un multisensore in grado di rilevare la variabilità del terreno e quindi di poter effettivamente rilevare sostanza organica, CSC, tessitura e quindi le diverse zone che ci sono all'interno di un suolo e poter andare a gestirle in modo differenziato, quindi con tecnologia VRT, rateovariabile. In questo modo io posso fare veramente agricoltura di precisione e dare alla pianta effettivamente quello di cui ha bisogno, nel punto di cui ha bisogno e nel momento in cui ce l'ha bisogno.